Il Concilio Vaticano II afferma che la vita, una volta concepita, deve essere protetta con la massima accusa. L'aborto e l'ivanticidio sono delitti abominevoli. La pena della scomunica sottolinea la gravità e il pericolo di una continua diffusione dell'aborto. L'aborto e l'ivanticidio sono delitti abominevoli. L'aborto è sempre un delitto, anche se la legge civile lo ha legalmente permesso. Nessuno può rendere onesto ciò che è intrinsecamente disonesto. L'aborto è sempre un delitto, anche se la legge civile lo ha permesso. La legge non può rendere onesto ciò che è intrinsecamente disonesto, in quanto nega il dono alla vita. Lo Stato, più che autorizzare l'interruzione della gravidanza, dovrebbe fornire i mezzi per ridurre le cause del fenomeno, ridurre le difficoltà economiche con la politica più efficace delle famiglie, salute, casa, occupazione. Dare ai giovani una educazione alla padronanza di sé, alla sessualità, alla paternità e alle responsabilità. Informare i mezzi della in limitazione delle nascite, rispettare le madri nubili e dare aiuto e serenità per vivere e far vivere, promuovere l'adozione, rincoraggiare i centri specializzati per l'accoglienza e l'assistenza dei bambini handicappati. Il dramma dell'autonasia. L'uomo non è padrone della vita, ma solo amministratore. L'autonasia, più che per compassione, viene praticata per evitare fastidi, per spese assistenziali. È un monto egoistico che porta l'uomo alla legge del branco di belve che alimenta e la bestia malata e vecchia. La cultura della morte, l'omicidio. L'omicida priva la vittima del diritto di vivere, di compiere la missione affidateli da Dio, di espletare le proprie facoltà, di guardare e guidare la famiglia e dei beni della terra. Della responsabilità delittuosa nello scagliarsi contro l'uomo non sono essenti gli stati. Possiamo accennare alla forma di tortura di fronte alle quali i metodi persecutori del mondo antico, appaiono molto meno crudeli. Non sono meno partecipanti e preoccupanti gli arsenali militari dotati di armi sofisticate e che spesso danno preoccupazione alle intere nazioni. Siamo stati creati di Dio per vivere su questa terra nella gioia, nella serenità e nel impegno del lavoro per far crescere la nuova generazione, quella di Cristo che è venuta a salvare in questo mondo.